Debutterà sabato 30 ottobre al Palafium di Taranto la giovane squadra della Santa Rita Taranto, roster che milita in Serie C Silver. Ci è attesa per vedere all'opera il quintetto di coach Menga che sarà coadiuvato da coach Simonetti. Siamo una squadra molto giovane, formata dai nostri ragazzi Under-19, più anche un Under-17 inserito nel roster. L'anno scorso la Serie C Silver non si è giocata, abbiamo giocato l'ultima partita a marzo di due anni fa in cui stavamo incominciando a vedere i frutti del nostro lavoro con i ragazzi e col settore giovanile, per cui per noi è un'emozione tornare in campo e poter partire finalmente con questa Serie C. La Santa Rita Taranto è una squadra giovanissima con tre innesti di esperienza, come spiega il capitano playmaker Gianluca Salerno. Debuttiamo sabato ore 19 al Palafium contro la scuola di Basket Lecce. Io sono il capitano di questo gruppo nuovo, formato da tanti giovani e un paio di senior, come Domenico Bitetti, Ragusa, Mattia. Vi invitiamo a venire a sostenerci perché sarà una stagione lunga e sicuramente piena di successi. L'avversario di questa prima giornata sarà la scuola di Basket Lecce, palla 2 alla Palafium, ore 19. Grazie.